ciao amiche e ciao amici qual è una strategia molto efficace per far perdere la testa ad un uomo ora devo darti alcuni consigli il primo consiglio è questo se tu hai già perso la testa avrai difficoltà a far perdere la testa a far perdere la testa all'uomo che ti interessa per il fatto che nel momento in cui cosa significa perdere la testa quando qualcuno mi dice ho perso la testa poi dice beh cosa vuol dire e lui non sa cosa rispondere o lei non sa cosa rispondere allora perdere la testa significa esattamente questo significa che i tuoi comportamenti non sono più guidati dalla tua parte cognitiva ma sono guidati dalla tua parte emotiva potremmo chiamare non guida più la testa ma guida il cuore se vogliamo usare una metafora romantica però la parte emotiva purtroppo non sa cosa fare non sa che cazzo fare la parte emotiva non è non ha le strategie quindi tenderà ad andare a caso e probabilmente verrà attratta proprio dalle cose sbagliate perché lei non gli frega niente di conquistare l'uomo alla parte emotiva interessa a diversi le emozioni che che l'interagire con questa persona con questa situazione li provoca non interessa conquistarlo cioè per farti un esempio se tu vuoi andare a milano è la tua parte logica che vuoi andare a milano alla parte emotiva gode nel viaggio anzi preferisce non farti arrivare a milano perché sa che magari dopo tu non lo fai più viaggiare e quindi e poi comunque non ha le strategie cioè è un po' come un cavallo cieco che si muove sto cavallo cieco andrà si muoverà perché vuole muoversi ma andrà di fatto dove vuole andare lui non è che va dove lo vuoi mandare tu ecco quindi e questo significa perdere la testa perdere la testa è proprio questo perché la testa non c'è più non è più la testa che guida è la parte emotiva fa sempre parte del cervello ma tradizionalmente diciamo possiamo identificare col cuore ecco quindi che nel momento in cui tu sei in questa condizione devi riuscire a venire un attimo fuori deve recuperare un barlume di lucidità quindi il primo punto è recuperare lucidità se non recuperi lucidità non farei perdere la testa a nessuno nel momento in cui hai recuperato lucidità e riesci ad analizzare la questione andando un po' oltre quello che è diciamo l'aspetto puramente emotivo allora riuscirai a far perdere la testa e come tu hai recuperato lucidità devi sapere un'altra cosa quali turbamenti avrà quest'uomo che ti interessa quali saranno le sue fantasie quali sono le esche di cui avrà bisogno la sua parte emotiva perché adesso tu devi dialogare con la sua parte emotiva e dovrai fornirli delle esche dovrai fornire del cibo dovrai fornire delle vettovaglie l'esca sessuale potrebbe essere un'esca buona in alcuni casi in altri magari no perché se siete un rapporto di coppia dove diciamo non c'è più attrazione allora va recuperata l'attrazione e per recuperare l'attrazione bisogna sempre ritornare al solito punto il punto è sempre lo stesso quali sono le fantasie che ha questa persona di emozioni non vissute emozioni compresse che ha dentro se è una persona nuova e beh è più facile magari diciamo visto che è una persona nuova è più facile interagire perché non sei sclerotizzata da vecchie scusate non sei sclerotizzata da vecchie situazioni perché se tu hai a che fare con una persona con la quale stai insieme da vent'anni ti sei creato di questa persona una tua immagine una sua immagine nella tua testa e non è detto che quell'immagine che ti sei creata coincida con ciò che è veramente quella persona invece se è una persona nuova hai più possibilità hai più margine diciamo così e cosa devi fare se questa persona appunto per fargli perdere la testa per capire quelli che sono i suoi turbamenti emotivi devi fare una cosa molto semplice concentrarti sull'altra persona ed osservare anche le piccole cose i piccoli piccoli sguardi non devi concederti subito a livello sessuale perché se ti concedi subito ti concederai a modo tuo e non è detto che il modo tuo sia un modo che piace a lui quindi ti conviene prima di concederti fare un po' di sexting che vuol dire gioco erotico via messaggio via whatsapp in modo tale che così lui sarà più predisposto a esporti quelle che sono le sue fantasie perché se voi vi vedete e andate a letto diciamo una sera o due dopo quando è tu non hai idea ti comporterai a modo tuo farai sesso farai le cose che normalmente ti viene di fare non è detto che siano quelle che soddisfano la parte emotiva e quindi andrai soltanto sua dell'altro e quindi andrai soltanto a soddisfare la sua parte istintiva e la sua parte logica e razionale lui non perderà la testa mentre invece se tu farai prima del sexting cioè riuscirai a stimolare giocare buttare lì delle cose lui tenderà ad aprirsi e naturalmente vorrà creare diciamo una fantasia che fa parte della sua emotività compressa perché noi cerchiamo a livello immaginativo ciò che non abbiamo completamente realizzato se tutti i giorni mangi i ravioli e non mi immaginerò di fare i giochi erotici con i ravioli per fare un esempio ma mi immaginerò di fare i giochi erotici con i gnocchi o con la gnocca diciamo così se non ho mai assaggiato questa cosa per cui quello è un modo molto importante quindi devi fare un po' di sexting è ovvio che come ti dicevo prima se con questo ci sei da vent'anni assieme diventa più complicato bisogna andare a scavare e recuperare insomma ci sono dei metodi ma diventa più difficile se invece un approccio nuovo o comunque una persona con la quale non è una vita insomma non è mai giocato inizia a fare questi giochi in modo tale che lui possa esprimersi nel momento in cui hai capito qual è la sua fantasia l'hai preso per le palle tra virgolette diciamo nel senso che potrai piano piano amplificarla farti vedere come quella che può incarnare questa cosa iniziare a fargli sventolare la carota davanti in modo tale che o la lattuga quello che preferisci in modo tale che sta tartaruga inizia a inseguire e mentre insegue lì devi iniziare a mettere dei vincoli devi iniziare a mettere delle condizioni le condizioni ne ho già parlato in un altro video vattele a rivedere sono fondamentali nella seduzione e lui le accetterà perché guarda la carota e più accetterà queste condizioni più si troverà coinvolto e più perderà la testa e a un certo momento arriverà un rimbaltamento uno switch e quando questo switch si innesca questo interruttore scatta e lui perde la testa allora non capirà più nulla allora potrai fare di tutto perché allora sarà veramente coinvolto e lo capirai quando per te farà delle follie stai attenta che se non ti interessa veramente tu gli fai perdere la testa poi ti trovi uno diciamo potenziale stalker rompipalle quindi fallo con una persona che perché poi le tecniche sono potenti se sono usate nel modo giusto fallo con una persona che sai che potrebbe essere una persona che può andare bene per te queste sono delle strategie veramente potenti se riesci ad applicarle nel modo corretto ma il primo punto è quello di non essere tu succube di questo incantesimo altrimenti avrai difficoltà bene per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e riceverai un video di risposta servizio completamente gratuito valido solo per iscritti al canale e se questo video ti è piaciuto mi fai una cortesia se lo fai girare nei tuoi social clicchi sotto dove c'è il sito condividilo condividi su twitter, facebook, quant'altro youtube ciao